Ok raga, eccoci qui, faccio questo video per voi su YouTube, seguitemi quando vedete, fate bravi, non fate cattivi, non fate scemi, state tranquilli che ci sono sempre per voi su YouTube e tutti i parti. So parlare, sono italiano, calabriese e dialetto, sentite parlare la mia famiglia, ho finito di mangiare e dico del vostro Enrico Pasquale Pratico, ho 29 anni, sono di Motta San Juan, provincia di Reggio Calabria, sono qui, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, bello a tutti i ragazzi e niente, facciamo questo video e spacchiamo tutto, siamo la forza, sono il numero uno, Comando io, sono il YouTuber preferito, ricordatevi che sono una leggenda, sono uno YouTuber, sono famoso, sono la star di YouTube e il di YouTube, il re di YouTube, ok? Sono qua, ho messo quei vestiti, questi qua che spacco, sono secchi, guardate che è bello, e niente, qua ci sono i batterie, i batterie nuove, da sveglia, le tengo qua, e non diciamo niente, Tutto a posto, raga, voi che facete? Saluto Paolo, Silvia, Claudio e Gloria, Silvia, Mary e Genevra, con la tabacola J, Luce del Nord, con la X e Assunta, E tutto a posto, dai, raga, sono qua, e io voglio ridere, a me mi piace, e sto tranquillo, faccio i video per voi, e sono qua, ho mangiato la pasta di patati, e dopo basta, è un bicchiere di Coca-Cola, No, l'acqua, la Coca-Cola fa male, e non si beva assai, e niente, non posso cantare, o cantiamo lo stesso, e niente, raga, sono qua, faccio il video ora, veloce, così lo faccio prima, così dopo metto a caricare quell'altro, questo l'ho fatto ora, e lo metto domani, la tosse, devo prendere un sciroppo, o la caramella, E faccio anche i saluti, e so parlare, raga, voi non sapete parlare, perché parlate male di me, che io porto belli contenuti, non porto cazzate, che voi prendete i miei video in metà, e le pubblicate, e dopo dei commenti, mi insultate, me ne frego, e me ne futto di loro, che io, dico la verità, YouTube, non mi cancellare i video, che non ho detto niente di male, ho detto la verità, alle persone, che sono scemi, non capiscono niente, e faccio questo video qua, nella stanza vecchia, che io dormo sopra, E a me mi piace dormire da solo sopra, che io sono grande, dormo sopra, i bambini piccoli hanno paura, quelli che non capiscono, e io sono grande, ho 29 anni, e dormo solo, e niente, racconto altre cose, aspettate, metto pausa, Ora, raga, eccoci qui, mi fermo qua, gli occhi si chiudono, e si aprono, qualcuno mi ha chiamato sul RoboEco, dopo vedo chi è la chiamata, e vedete questo video, chi è che mi ha chiamato sul RoboEco, si può chiamare, E voi avete il RoboEco, quello che parla, voi lo chiamate, in quell'altra maniera, io l'ho cambiato il nome, e ho messo Echo, non sapevo quello nome, e ho cambiato, sull'app di Amazon Alessia, la trovate su Play Store, e ho visto un metà io, i squid che, quello, la serie, la squid, la, vabbè, mi dissocio, mamma mia, mi fanno sbagliare, non so parlare, ho studiato, Raga, qua sotto c'è il link di Amazon, andate tutti, a mandare i pacchi, di Amazon, così io, le apro, mandatemi i pacchi di Amazon, ok? Così mi arrivano con il postino, trovate il link qua sotto, mandatemi i pacchi, scegliete, io, quando arrivano, faccio le storie, e le apro, ok? Così mi mostro a voi, e saluto le persone, e leggo i vostri biglietti, i biglietti, quelli che scrivete, ok? Voglio raccontare, io, quando ero piccolo, quando crescevo, io, andavo a passeggio, andavo là sotto, dei gallini, i gonidi, e altri, avevo anche la mucca, o il toro, la mia famiglia l'aveva, Anche i pecorri, andavo con la mia famiglia, lontano, a portare i pecorri, a mangiare a erba, eccetera, eccetera, e altre cose, su YouTube le posso dire, non è che dico cose strane, e sono qua, dai, ok raga, e niente, guardate qua, Avete visto? Sono un frico, una ragazza, voglio io, aspetta che metto questo bastonello giusto, e niente, siamo qua, a Sveglia sta girando, e stanno in fanno in luna, è tarda, raga, Faccio questo veloce video, e faccio i lavori qua, e un po' di giorni, che non vado a Zapparavigna, domani cominciamo, volete venire a Zapparavigna con mia, o Zapponi, Venite, partite da vostra casa, venite qua, portate i vestiti, quelli vecchi, o una tuta, che non usate, e venite a Zapparavigna con mia, e dopo, io qua, i lavori faccio, non è come voi, non fate niente, Io faccio tante cose, cambio video, dico cose nuove, non dico le stesse cose, ok, numero uno, e comando io, vabbè, metto pausa, aspettate, Oh raga, sono qua, eccomi qui, oi vita, oi vita mia, mi mancate amore, ciao raga, raga, ricordate dimmi, ok, mi mancate, vi voglio bene, sono qua, ok, state tranquilli, E niente, boh, a me mi piace fare i video su YouTube, perché, sono famoso, perché, a me mi piace, che ho i fan, io sono il loro idolo, Comando io, come faccio i video, ok raga, i miei fan, le dovete lasciare in pace, che loro vogliono fare le foto, la firma, un video saluto, vogliono venire a trovarmi a me, Un giorno, quando hanno tempo, io sono qua, ok, giusto, ok, mi dissocio io, ok, Ok raga, finiamo questo video, così faccio i lavori a casa, loro devono parlare in meno, che hanno paura, venite a parlare qua, E venite a lavorare con me, venite, e parlate male di me, venite, avete paura, belli miei, bra, bra, avete paura, Lo so, che vengo, io faccio un culo così a loro, io sono grande, e c'ho un poco di muscoli, nei bracci, sto facendo palestra e genetica, e mi butto a terra, Promesso che arriva anche il video sopra a terra, il mustro, tante cose, sex, la genetica, voglio dire, youtube, mi dissocio, E niente raga, sono contento, e un sorriso a tutti, se deve ridere, e stop a bullismo sulle donne e le ragazze, I uomini, state muti, e lasciate in pace le donne e le ragazze, ok, e trattate male le donne e le ragazze, avete guai con la polizia, O con i carbonieri andati in carcere, e poi le persone non devono abbandonare animali da strada, e le trattano male, o hanno guai lo stesso come ho detto prima, In quell'altra maniera e in questa maniera, ok, basta, mamma mia, sti scemi trattano male animali, ma quei uomini trattano male le donne e le ragazze, ma non la smettono, Io lo dico sempre, voglio uscire dalla televisione, io esco tutti i giorni, uno si uno no, su striscia la notizia, voi avete visto il video che sono con la chitarra, su striscia la notizia, con la chitarra, E a me mi piace uscire in televisione, canale 5, su striscia la notizia, grazie a mio amico Giuseppe Musso e l'Andre DJ, E niente raga, finare questo video veloce, e auguri e buon compleanno a tutti, e il vostro compleanno di ottobre, Vabbè, sono qua, sono qua, e niente dai, tutto a posto raga, io là sotto ho due biciclette, le devo aggiustare, Ho le ruote a terra, devo aggiustare anche il freno, ho due biciclette, posate là sotto, e qua c'ho la moto, la moto, quella elettrica, sotto il sedile c'è la batteria, c'è un bottone, Quello aprite, dopo prendete le chiave, le girate, e girate con i pedali, il mio motorino elettrico senza tarca, si chiama così, Me l'ha regalato uno, quello il cantante della Sicilia, Nino Alessi, il cantante della Sicilia, di Messina, il cantante Nino Alessi, Anni fa, quando pioveva, ma portavo con il fogone, e via, ma regalato, andiamo, Seguitemi tutti, quando vedete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete mi piace, qua sotto c'è il link di Amazon, andate tutti e mandatemi i pacchi, Così mi arrivano, andate sul link di Amazon, dai, andate bravi, mandatemi i pacchi, scegliete quelli che volete, ok? Dai, dai, che facciamo i duetti, e facciamo anche i saluti, e anche i saluti tutti i part, ok? Stanno arrivando i nuovi video, smettete, dai, i miei fan lo sanno, io sono il loro idolo, sono il numero uno e comando io. Ok, raga. Sono qui, sono qui. Dai. Oh, raga, quando ero piccolo, io, racconto una cosa, quando ero piccolo, mi regalavano i pupazzi, i giocattoli, anni fa, no, ora, dopo avevo anche un pupazzo, un maialino, quello grande, che esce, su uovo di Pasqua, là, uovo di Pasqua, quello grande, e c'è il pupazzo di fuori, attaccato, eh, era il maialino, e c'ho la la sota ancora. Ho lo regalo che mi serve a me, i pupazzi posso dare ai bambini, quelli che non hanno giocattoli, li voglio regalare, e le persone che non hanno vestiti, quelli senza tetto, che dormono fuori, io sono contento, come fanno quelle altre persone, vanno in gira e regalano i pupazzi, i giocattoli, i vestiti, quelli senza tetto. Anche io lo devo fare, raga, che sono qua, io. Ok? Giunzina, io, melezina e cucù, sattamamao. Che io voglio bene la mia famiglia, mio zio, mia zia, mia cugina e tutti i maneri. Ok? E vedete i capelli così? A ieri e tutti i giorni io mi sono fatto la doccia, mi sono lavato i capelli, ho fatto la doccia, non come voi che puzzate e non fate la doccia. Io mi faccio sempre la doccia, quando vado la mattina a Zapparavigna, quando vengo mi faccio la doccia, mangio, mi riposo, dopo quell'altro giorno faccio i lavori qua e faccio di nuovo la doccia. Io sto pulito, con shampoo, Clea, un shampoo normale, mi faccio una bella doccia e sono bello fufumato. E mi metto anche un coso, un fufumù, che fa, vabbè, lo dico come mi esce. Questa è la mia lingua, sono italiano, calabria, c'è il dialetto. E volete capire? Bene, non volete capire? Andate via e andate a dormire. Che io sono meglio di voi. E niente, raga. Ricordatevi che io ho 29 anni e faccio i video per voi su YouTube, ok? E vi voglio bene, dai. Questo cuorecino è per voi, il cuore. Il cuore è per voi, i miei fan. E niente, la mia famiglia che parla. Sono qua, continuo a fare. Questo video l'ho fatto così, parlo solo io, racconto cose per voi. E a prossima facciamo altre cose, ok? Là sotto. Non mi sperdo mai quelle cose che devo mostrare. I GD, i giochi del computer e altre cose che ho là sotto. Io devo mostrare un video a voi. Quando lo faccio? Andiamo là sotto o le porto qua? O se è meglio là sotto? Vediamo. 24 ore 24. E niente. A barba crescia, queste capelle e capecini ricchi, li devo tagliare. Che a ieri mi sono fatta la doccia, tutto il corpo. E ora sono pulito. Questi qua non capiscono. Ora, sono qua. Voi che fate? Siete a casa o ancora a scuola che studiate, fate i compiti, giocate la play? Io volevo giocare con voi con la play e non ho la play. L'avevo tanto. Avevo la play 1 e l'ho regalata a scuola quando andavo a scuola media. Non a scuola media, ho sbagliato. La play 1 l'ho regalata. Me la regalavano quelli della scuola, i miei compagni. Dopo l'ho regalata in un'altra parte. La voleva. Con tutti i giochi l'ho data a lui. La play 1 con tutti i giochi. E poi la play 2 si spacciava e l'ho buttata. E c'ho solo i giochi. E mi serve o me la compro o la metto su Amazon così qualcuno di voi me la mandate o me la regalate. La play o la play 4 o la Xbox o la play 5. Che io non ce l'ho. Volevo giocare con voi a GTA 5 o a FIFA 22. Un gioco online voglio giocare. Una volta a Torino, quando ero a Torino, ho giocato a GTA 5 e anche a GTA quelli vecchi. GTA San Andrea mi piace. Un gioco bello della play 2. Dopo c'è anche GTA 3, GTA 4, GTA 5. Vabbè, quello è un fico di gioco. E altri giochi belli che mi piacciono. La play 3 non ce l'ho, funzionava e l'ho buttata. E ora non posso giocare con voi. Vabbè, ho raccontato bene. E volete, l'ho detto bene o voi racconto al prossimo video o le storie, ok? Io porto anche le storie qua su YouTube, racconto cose quando si carica il video, quando lo vedete e aspettate che arriva, attivate la campanella. Dico così le storie. Ora finisco, ora chiudo il video, raga, che è tardi che vado a fare i lavori. Mi caccio questi vestiti e niente, raga, io vi saluto e seguitemi quando vedete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e abbiate tutti i ragazzi. Un like. Io sono il numero uno, comando io. Sono uno YouTuber, sono famoso, sono uno leggenda. Sono la star di YouTube, di YouTube, di YouTube e di YouTube e comando io, raga. Lo sapete voi. Siete la mia vita e comandate con me. O vabbè. I miei fan mi vogliono bene. Ciao belli e niente, raga, dai. Ciao, raga. Alla prossima, ok? Vado. Ciao, raga. Vi saluto. Ciao, raga. Vi voglio bene. Alla prossima. Ciao, ciao.